Bene ragazzi, rieccoci qui su Doom 3! No, non ci credo, no... No... Ok, vabbè, il tiranno vuole comprire nel mio video. Ebbene, è comparso, perfetto. Siamo di nuovo qui, su questo grandissimo, bellissimo, panoramissimo e continuiamo la nostra missione di ritornare nel punto di controllo. Pieno di mostri e zombie vari. Ok. No, sta il problema, ma sì, forse qualcosa... Dove? No! Dove? No! Colpa di redimento! No, ok. Madonna. Non ne ricordavo così forti. Ok. Ok, dovrebbe avere qualcosa di interessante, cartuccia, molto bene, molto bene, molto bene. L'armatura lì non dovrebbe far qualcosa. Ok, qui cosa c'è? Latina. Non ho sete. Allora... Allora... Mmm... Oddio! Oh! Vedo? Orr! Mi! Oh! Sio, 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 sio... Sio, 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 sio... Ok. Che cos'è? Ok, non mi interessa. Avanziamo e basta. Mmm... C'è dalla luce... Qui non c'è niente. Ok. Ah, finito le emozioni. Ok. Non sparare da... Dai, dai. Ok. Non sappiamo... Non sappiamo... Bene. Giù di qua. No. Non è arrivato. Ah, no. 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 Oh. Barricatevi e te mette duro. Cià, cià, certo. Oh, oh, oh. Musica molto inquietante. Dov'è? Mmm... Oh, cazzo! Ok. Avanziamo. Mmm... Qui possiamo fare qualcosa di interessante, forse. Vediamo. Vediamo se avevo... Ragione. Dov'è? Pop, pop, pop. Oh, sì, ha funzionato. Molto bene. Ha funzionato proprio come pensavo... Che funzionasse! Ehm... No. Ok, sì, ok, ce la possiamo fare. Perché sparì? Abbiamo un morto a diversi feriti. Andiamo rientrando, abbiamo bisogno di più su un posto. Mmm... Bene. Pericolo? Pericolo? Ma dai! Impossibile di assicurare un trasporto. Allora, oh no. Porta... Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo! Io ti conosco più di quanto tu pensi di conoscere te stesso. Ok. Ehm... Ok. Ehm... Mh... Ui! Nuovo verso... No! Oh no, dai! Non ti imparare più ora. Ok. Perfetto. Scusate la piccola interruzione. Nuovo verso... A me non mi interessa. Bene. Ok. Ci serve un palmare. Andiamo a caccia di palmari. Mmm... 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 No, ok. Nessun pericolo. È tutto a posto, ragazzi. Qui non c'è niente di cui preoccuparsi. Soprattutto c'è la vita. Ancora? S... S... No! Non mi fido di te. Ehm... E facevo bene! Ok. Piazzi di armatura... Un po' di sangue... Piastre... Mmm... Però non vedo nessun palmare. Palmare? Palmare? Cosa c'è? Cosa c'è un cartuccio? Ok. ok posso usare ci sono il nuovo buono cosa come ho fatto ok non interessa comunque è libero l'accesso ma so che qui ci sarà qualcosa che non è ok ha funzionato ah no di là infatti no non so ok non mi piace questo posto perchè era di vento mamma mia ok ok no fammi prendere ste armi medici non volevo un medici ok ehm oh headshot ok via non sparare a caso oh oddio è durato molto meno del solito ma mi ha fatto venire comunque un attacchi gardia estrema ok bene le esplosive possono ah beh tanto meglio ora sappiamo una cosa in più da 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 ma ma si che brutto nome non vivrei mai a marsiti ok si riparte mmm forza forza ma ma dammi un attimo di pace giusto un attimino ah non si può iniziare così una missione dai eh eh un minimo di delicatezza cos'è ok è un braccio ma quello sotto vediamo ehm si ok i fornimenti beh è vuoto però per niente ok ehm andiamo di qua come si fa? ok io riesco a salire soltanto con i piedi ehi ciao ah ah oh oh ok tu non vieni? no non vieni eh ok va bene ehm ci vediamo dopo oh 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 piastra piastra eh lo so io tranquillo lo so io cosa c'è laggiù si armatura stiamo a 83 a 98 di metà quando è che ho perso quando ha contro il coso beh dai qui dentro non potrebbe esserci nulla di pericoloso immagino ho parte i sospiri devo buttarmi ok dov'è che mi sto oddio no mmm oh dietro di me oddio sapevo stronzo dagli occhi rossi si 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 ridatemi un shotgun 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 l'altro ok non me l'aspettavo questa ok non posso oh no ok palmare non funziona ok nessuno problema nessuno problema ok andiamo oh non riesco a ok oh non mi fida di te sei sempre uno di loro cos'è mmm sembrano tipo bombole di ossigeno però fa niente ok via oh ti ho visto ah si io no due no ragazzi due contro uno non vale su no mitragliatrici davvero non vedo niente giusto speriamo nelle gambe il punto debole di ogni zombie caro io urca mitragliatrice ma meglio usarla dopo meglio catturare un pochino di munizioni poi ma intanto rimaniamo di shotgun mmm mmm oh mi sa che qua è rotto e non funziona caffè 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 ok ok schiedaccio terminale spento quindi non possiamo farci nulla yeah oh ramunizioni ah caricatori perfetto perfetto mmm ok qui non c'è nulla allora se no io Wilson ah già oh si certo come no mi troverai funzionato wow no stavolta no tutti con i miei stessi fucilli dai ciao ciao beh polvere proiettili una pistola usavi sembravi che sparassi con uno shotgun però fa niente allora cosa c'è riviste riviste il robottino no non dobbiamo far distruggere il robottino come faccio ad uscire ah qua giusto minhè shan il segreto è come faccio a farti spararti in testa e abbiamo ancora il cervello no dai ragazzi dai no dai uno come dai ok e te dove sei spuntato fuori ok perla di saggezza di doom 3 solo con lo shotgun fai gli headshot ok no mi si è rotta la torcia ok riaccendiamola dove c'è? cartucce è un caricatore perfetto ma smetti di sperare a caso ok ricarichiamo che ansia ragazzi che ansia dimmi che non sono tornato indietro ok medikit non ero tornato indietro aaaaaa brucia madonna ok 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 proviamo questa bellissimo giusto perché mi piacerebbe provarla aaaaaa volevi fregarmi ma non vale anche tanto male che cosa sei? che cosa sei? basta no no non devi morire no sta per saltare ah diamine e dai basta non ne posso più muori perchè non muori dai almeno tu fammi felice lascia lasciami un attimino di pausa ti prego ok ha funzionato ho finito i colpi addio non mi ricordavo così ansia 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 papagallo bene i papagalli sono segno di cattiveria in quanto pare ehm bene uff respiro profondo eeeeeee mmm ehh si in questa stanzetta farò il finale del video assolutamente ehm questo era il terzo video di Duntre ora mi va anche via la forza perfetto faremo un finale al buio no non è neanche tanto buio bene questo è il finale di Duntre spero vi sia piaciuto finale di questo episodio spero vi sia piaciuto PS io probabilmente non riuscirò a fare più video fino a al 22 di agosto cioè quando torno quindi mi spiace di queste mancanze in caso ci vedremo da qualche parte in Toscana e basta spero vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo ciao